bella raga ciao a tutti nel comandone veneziano siamo su ferchera i4 e ci facciamo così una sessione di cazzeggio per provare il gioco un settaggio di tutti accenni e rinchi sicuramente non c'è nessun spoiler niente niente andiamo a catteggiare un po' qua ok la vediamo un po' anzi se volete ragazzi consigliarmi e possiamo fare qualcosa ragazzi voglio una serie su fare un craio noia che maldi ci ho fatto il nemico è l'azzo il nemico sono due munizioni cazzo noia che andiamo a correre sui guarda curati porco curati porco se cazzo лена he non peggio se ne munisce la cosa noii siamo il culo no no devo prendere armi perchè non ti cedi e basta eh dobbiamo prendere quella pistona Cazzo di nuovo! Questo di nuovo! È veramente bene! È veramente bene! È benedetto! E vai, ecco il nostro H... vecchio, grazie Ok Vediamo un cacere bello qua Cazzo di nuovo! Cazzo di nuovo! Prendiamo un po' di diamanti qua Un po' di soldini 3.900 minchia Questa valuta ragazzi è la minchia Non vale una Vai Ok Adesso la L è la missione teoricamente Però io non volevo spoilerare la missione E che non so che cazzo fare Se c'è il cazzeggio dovrei trovare il maiale In realtà per fare... Per fare il... Come si dice il... Come? Non mi ricordo più Sono un pirlotto Ah lo zaino, lo zaino, il maiale Però non mi ricordo se il maiale E il cinghiale qua sono tutte le stesse cose Perché ho giocato pochissimo ragazzi Non mi ricordo Vediamo vediamo Potremmo andare qua? Vediamo se la stessa cosa Non mi ricordo onestamente ragazzi Non mi ricordo Allora... Questo gioco è come sempre Ubisoft Quindi la ringraziamo per questi giochi Che sono di una pesantezza inaudita Grazie Ubisoft Per tenuto abbassare un po' l'anti-harising E che cazzo abbassare E' qua Per guidare automaticamente Andiamo a sottopare qua Ma scuola di guidare automaticamente Spuola Quali fiori Ma ho una teoria Non c'è un capito La fauna che gli immagini sanno sulle palle Ma no, proprio no E' qua di cazzeggio ragazzi E' qua c'è gente che crede nella reincarnazione Ci sono un sacco di stronzi da queste parti Bella Noi stessi siamo degli stronzi Non so che deve fare qualche missione E' cazzetto C'è qualcosa che è cazzetto Perché scuola l'armi So che a voi non piacciono scuola Dove ci sono stronzi Nascono altri stronzi Merda Se ci pensate Per cui le cose sono così Nooo Che bello Che bello Non c'è gente Wuh Che siano la reincarnazione di qualcuno Che non ci piace Per esempio Una volta ho visto una capra Che aveva lo stesso sguardo Della mia ex E allora Quella testiera a guidare è uscita Prepa pensarci due volte Avevano anche lo stesso sapore Della mia ex Tra l'altro Ma con meno fatidio E' sporchia clinica E' uscita E' uscita E' uscita E' uscita E' uscita Quella gran troia Quella gran troia Che forse è porta del karma negativo Che mi farà reincarnare in qualcosa di stronzo Merda Come appunto Una capra Esci Ok Andiamo alla scoperta Forse ho sbagliato qualcosa Porca troia E' classico errore Uno di più Attenti Aquila Aquilotto ragazzi I cervi non me ne fotte una picchia Mi spiego troppo la cosa, mi spiego bene Ok, qua forse I cinghialotti Eccoli qua No, vai a scappare Perchè andare con l'arco devo andare, Cristian, sei Ma non ce l'ho l'arco Merda Eh, ma il culo Cazzo è Grazie Ok L'ho preso Vediamo se mi li da come maialotti Così si va a casa ragazzi con il pistolino Secondo me vediamo, 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 vediamo Eh vedi non me la dà niente a fare C'ho anche i maiali qui Ah ma se non mi ricordavo questa cosa Non me la ricordavo Ah la c'è anche il mio, lo volevo ammattare con la sto porco Oh 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 oh, bye 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 baby No No Posso fare qualcosa Però vediamo, è importante Questa è una cosa importante Possiamo Borsa ammunizionale Eh me la credo Me la credo Me la credo Me la credo Ragazzi Ma buono Ma buono raga sto mini video così per capire un po' se avete qualcosa di Far Cry La sto Qualche missione Qualche missione Oh 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 Che cazzeggio sono, sicuro che il gioco non è di vostro gradimento Vediamo raga, un saluto da Uendo, bene sia Ciao